E se era in Langa, a fine di una lunga giornata di lavoro nelle vigne, Giancarlo e Maurizio festeggiano la fine del raccolto. Giancarlo è particolarmente stanco, perché di solito in Toscana la vendemmia dura meno che qui in Langa. Hessa, hessa, il raccolto mi ha distrutto. Uè Gianchi, sei proprio uno sfaticatone. Vieni qua che ti offro un bicchiere della scorsa annata. Mauri, abbonda, abbonda, non farei il tirchio. Boia Fausto, ho preso tre topi nella cesta. Oggi mi hanno rovinato tutte le uve. Io ne ho fatturato uno che si chiamava Giso e lo ho messo nelle cassette. Ma l'hai chiuso a chiave. Non faccio mica le cose a Cristo assolto. Ma sei tifolo, mica capisco il toscano io. Parla come mangi. Vuol dire che ci penso alle cose prima di parlare. Ah, dai, mia moglie mi stanno aspettando. Torniamo a casa. E così i due tornarono felici a casa dopo aver festeggiato.